Prima ha rubato due bottiglie di vino, poi ha danneggiato un'auto in sosta, tutto per farsi arrestare e rinchiudere in carcere, ma tutte e due le volte è stato denunciato. È successo ieri, protagonista un marocchino di 35 anni che ha detto di aver agito consapevolmente nella speranza di finire dietro le sbarre perché è privo di soldi per vivere e perché è tossicodipendente. Nel primo pomeriggio ha rubato due bottiglie di vino valore 18 euro dagli scaffali del supermercato Coppi in via Valentini e le ha nascoste nei pantaloni. Arrivato alle casse ha cercato di superarle senza pagare ma è stato visto e bloccato dall'addetto alla vigilanza che ha subito chiamato la polizia. Niente arresto, per questo tipo di reato si procede su querela di chi subisce il furto. Qualche ora più tardi il marocchino ci ha riprovato, questa volta ha spaccato il deflettore di un'auto parcheggiata in piazzale Ebense. Un passante ha visto e ha telefonato alla questura. Il 35enne sperava nell'arresto e lo ha detto chiaramente ma niente da fare per lui. Solo, è il caso di dirlo, una denuncia per danneggiamento. Marito e moglie hanno litigato nel cuore della notte e hanno svegliato tutto il condominio ma quando sono intervenuti gli agenti a finire nei guai sono stati altri occupanti dell'appartamento. Due donne di 28 e 35 anni denunciate per resistenza a pubblico ufficiale è successo alle 4 di stamani in via Sangro. Sono stati gli abitanti del palazzo a chiedere l'intervento della polizia per il trambusto proveniente dall'appartamento abitato da 5 cinesi. Gli agenti li hanno identificati tutti ma due donne hanno posto resistenza con atteggiamenti non collaborativi e dicendo di essere vittime di soprusi da parte della polizia. Sul posto è stata fatta arrivare una mediatrice culturale che ha riportato alla ragione le due donne. Spacciandosi per parente di una vicina di casa è riuscita a entrare nell'abitazione di una donna di 85 anni e a rubarle i gioielli custoditi in camera dal letto. L'anziana, residente a San Giusto, ha denunciato il fatto alla polizia raccontando di essere stata derubata da una giovane donna con accento campano che presentandosi come parente di una vicina le ha chiesto di poter prendere in consegna un portafogli e conservarlo in un posto sicuro. La questura ribadisce l'importanza di non aprire mai a sconosciuti anche quando le scuse sembrano credibili e di chiamare sempre il 112.